Partirà da Brescia il cammino della nuova stagione della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il 1 ottobre i ragazzi di Coach Buscaglia saranno ospiti della squadra autrice dell'eliminazione dei Biancorossi nelle ultime Final 8 di Torino. Come recita il calendario della stagione 23-24, stilato ufficialmente oggi alle 12, per vedere la VL alla Vitrifrigo Arena basterà aspettare una settimana dal debutto. L'8 ottobre Tambone e compagni accoglieranno Venezia davanti ai propri tifosi. Per affrontare i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano la VL dovrà attendere la quinta giornata, quando il 29 ottobre scenderà sul parquet del Forum. Invece il ritorno a Pesaro è fissato al 4 aprile. Sarà invece l'ultima partita del 2023 quella che i Biancorossi disputeranno contro la Virtus Bologna, quando il 30 dicembre saliranno nel capoluogo emiliano. Alla 23esima giornata sarà il parquet della Vitrifrigo Arena ad ospitare invece il ritorno, in programma il 17 di marzo. Regular season che si concluderà il 5 maggio con i Biancorossi che chiuderanno in laguna il loro girone. Se c'è certezza per il calendario per la prossima stagione, la parola certezza emerge in casa VL anche per quanto riguarda il nuovo roster, completato nel pomeriggio di ieri con l'ultimo tassello mancante. Il nuovo centro biancorosso sarà il tedesco Gavin Schilling, 34 il numero sulle spalle, per 206 centimetri e 113 di peso. Arriva a Pesaro dopo l'esperienza al Cognaspor in Turchia, conclusa con 9,1 punti di media e 6,7 rimbalzi. Da Schilling a McCollum dall'ultimo rinforzo al primo acquisto per il 2023-2024. Il playmaker americano con più di 150 presenze in NBA sbarca in città a 32 anni dopo l'ultima esperienza in Francia con i colori del Nanterre. Il nuovo numero 3 sarà la chiave della manovra della squadra di coach Buscaglia, anche lui volto nuovo della prossima stagione al posto di Repesia. Il coach pugliese, strettamente legato al suo passato con Trento, è reduce dall'esonero con Napoli e dagli ultimi mesi conclusi sulla panchina israeliana dell'Apoel Eilat. L'ala grande della Carpegna Prosciutto sarà invece lo statunitense Quincy Ford, che con i suoi 203 centimetri ha chiuso la sua ultima esperienza in Ungheria con 12,4 punti di media e 7,4 rimbalzi. A ricoprire il ruolo di guardia invece sarà lo statunitense con cittadinanza kosovara Scott Bamford, 34enne di 1 metro e 88 centimetri. Un nome già conosciuto nel nostro campionato grazie alle due stagioni dal 2017 al 2019 con la canotta della Dinamo Sassari, prima di atterrare a Pesaro dopo le esperienze in Montenegro, Francia e Spagna. L'ultimo rincalzo da buoni punti sulle mani porta il nome di Trevon Bleuet, l'ala piccola americana classe 1994 di 198 centimetri che al termine della stagione trascorsa in Polonia ha chiuso con 16,4 punti di media. Sono così 5 gli americani che vanno ad aggregarsi ai 5 italiani confermati in rosa, vale a dire Totè, Visconti, Tambone, Stazonelli e il rientrante Mazzola. A salutare Pesaro è l'ottima annata conclusa con gara 4 dei playoff contro Milano, gli americani Abdurrahman e Cittam, Ceralan Populos, Kravic, Gudmundson, Dey e Moretti. A salutare i colori bianco-rossi anche il capitano Carlos Delfino che dopo tre anni splendidi tornerà molto probabilmente in patria per concludere la carriera e tifare a distanza i suoi ex compagni nella prossima stagione.